ciao sono cesare luppo oggi siamo qui a collegno nella zona di santa maria volevo presentarvi e farvi conoscere un grazioso appartamento siamo qui nella zona giorno ancora alle mie spalle una bella cucina abitabile il disimpegno ci porta al bagno principale e alle due camere da nelle due camere come noterete abbiamo il parquet e noterete la loro luminosità per ultimo ci troviamo sull'ampio balcone se vi ho messo curiosità non esitate a contattarmi